Sì, penso che la squadra meritava qualcosa in più, aveva fatto una buona prestazione, avevamo difeso molto bene, credo che poi dopo i primi 15 minuti la squadra abbia espresso anche un buon calcio, poi anche nel secondo tempo c'è stato un periodo che pensavo che vincessimo la partita sinceramente perché avevo messo le corde dell'Atalanta, accettiamo questo risultato, non siamo contenti di questo risultato, però rimane la prestazione, questa squadra rispetto a due mesi fa è cresciuta, due mesi fa era ultimi in classifica, adesso fornisce anche delle buone prestazioni, ha la giusta atteggiamento, ha la giusta mentalità. Siamo un po' molto amareggiati perché abbiamo condotto la partita per quasi tutti i 90 minuti e perdere un po' così brucia un po', poi volevamo chiudere l'anno con dei punti, invece è andata male purtroppo. E tu invece c'è questo gol che non arriva, vai sempre là vicino, ci provi, manca sempre un soffio. Sì, sì, sta girando un po' male, sto crescendo bene, partita è partita e manca il gol che un po' più che altro aiuterebbe la squadra che poi è la cosa più importante, oltre che farebbe piacere anche a me sicuramente. Abbiamo fatto un'ottima gara, purtroppo l'episodio ci ha condannato, quell'episodio lì ci ha condannato e sono stati bravi e fortunati loro a sfruttarlo. Non solo, c'era anche un rigore su te, no? Come l'hai vista tu? Sì, 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 si poteva dare, ci stava, ci stava, però non sempre viene fischiato. Il cittadello aveva un po' messo in difficoltà, insomma non si vedeva questa grande differenza tra le due squadre obiettivamente, cosa ne pensi? Sì, sicuramente è stata una partita molto equilibrata, loro sono una bella squadra, c'è da dire che sono molto uniti, compatti, poi il campo era in condizioni un po' particolari, era un po' ghiacciato, quindi non era facile per noi giocare la palla. Non è un alibi, però sicuramente ci ha un po' penalizzato, siamo stati bravi comunque sia a vincere una partita che non meritavamo. Sì, perché era una partita molto difficile, vuoi per l'avversario, che comunque è una squadra che mette in difficoltà chiunque avversario, vuoi perché il campo era un po' era una lastra di ghiaccio, era molto difficile stare in piedi, abbiamo fatto un po' di fatica, però sono contento perché abbiamo vinto una partita importantissima che ci permette di... Una partita però ci tengo a sottolinearla, è stata equilibrata, sono quelle classiche partite di Serie B che possono finire con tutti e tre i risultati.